Abbiamo visto prima la follia degli olandesi impazziti per i bulbi tulipano, poi abbiamo visto altri effetti devastanti, questi virus mentali nei colossi dell'informatica, della finanza, durante l'euforia irrazionale per Internet. Oggigiorno, di fronte alla passione, perlomeno per il mattone, a livello globale, rimanendo però in Italia, siamo un po' più saggi? Ossia ci sono strumenti e approcci che possono calmirare una follia? Secondo me bisognerebbe interrogarsi sui motivi, al di là della domanda reale che c'era dell'acquisto casa, che hanno portato a una crescita così smisurata dei prezzi, perché in realtà rispetto alla capacità di spesa delle famiglie i prezzi degli immobili sono cresciuti in maniera divaricata. E allora bisogna avere il coraggio di fare un'analisi lucida, perché alla fine l'immobile non è qualcosa di virtuale, è un bene fisico, il cui costo è composto da 4-5 componenti. La prima componente è l'area, i sedime su cui deve essere realizzato l'edificio, gli oneri di progettazione, gli oneri di impresa per costruirla, gli oneri finanziari per sostenere quello che diceva prima Valerio, rispetto al fatto che spesso queste operazioni sono a loro volta finanziate dal sistema delle banche per poi essere ritornato dentro in maniera frazionata quando vengono vendute, e quattro ragioni. Allora, considerato che il costo del lavoro e il costo della materia prima sia aumentato negli ultimi 10 anni, ma non nella misura in cui sono aumentati questi prezzi, sicuramente siamo di fronte a un aumento importante del costo delle aree. Quindi si è enfatizzata la rendita fondiaria, che è la cosa peggiore che ci possa essere, perché è una rendita parassitaria e non produttiva. Quindi non dai molte speranze su assaggiare, scusa, pensavo... No, volevo finire, scusa. Quindi, un ragionamento rispetto al fatto che i valori dei suoli siano aumentati così tanto, deve farci meditare rispetto... perché quando poi ci sono dei problemi bisogna trovare anche dei correttivi. Allora, io mi pongo solo un quesito, avendo fatto un amministratore pubblico in qualità di assessore all'urbanistica di un comune qui vicino nella mia vita precedente, tanti anni fa, quando ero giovane. Beh, ma è l'unica, una delle poche autorità delle amministrazioni pubbliche, i comuni che devono battersi, poter pagare gli stipendi, eccetera, è le regole sui suoli. Forse è mancata questa. Passerei subito a Valerio, invece, per una bella domanda, un po' di fantasia sempre, siamo nel mondo della complessità, quindi quale può esserci, può esserci e quale può essere l'elemento che contraddica questi grafici che poi analizzeremo meglio, di eventuale rialzo, invece, ulteriore del mercato, là dove invece stiamo prospettando possibili ribassi o crolli. Ecco, c'è una, seppur improbabile, uno scenario possibile? Certezze non ce ne sono mai, però due punti sono. In termini reali, c'è un incremento del prezzo degli immobili che sia superiore a quello che è il tasso di inflazione che c'è in giro, è un fatto a cui attribuisco una probabilità molto, molto bassa, oggi come oggi. Elementi, una grossa pressione demografica all'interno del Paese, per esempio. L'altro punto, un incremento in termini nominali, invece, qualora la tensione inflazionistica in questo Paese o in altri Paesi diventassero veramente importanti, per esempio con una rinnovata inflazione salariale, allora potrei immaginare che l'aspetto bene reale dell'immobile prevalga su tutto il resto e per lo meno in termini di prezzi li vedremo probabilmente salire. Quindi, ecco, questa possibilità di un'inflazione salariale è tenuta d'occhio, va bene. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata e io ovviamente saluto gli ospiti Antonio Pastore e Valerio Lucquinetti che ci hanno seguiti, per eventuali chiarimenti e informazioni potete consultare i riferimenti in sovraimpressione. Per il momento grazie per averci seguiti e arrivederci da Nicola Antonucci. Grazie.